ciao a tutti io sono fatto di fatto strafatto e oggi siamo ancora qui in un orario ancora più diciamo difficile da raggiungere vabbè oggi volevo farvi vedere un nuovo gioco che si chiama pixel twist questo gioco deve cercare le figure e crearle infatti tu dovrai mettere in posizione giusta i pixel per comporre la figura che vediamo in angolo è un gioco molto carino però molto difficile oggi vi presento un po di giochi di figure ve ne mostro un po ma comunque anche quando già se si è già visto come comporla anche quando si ha il telefono in mano con il gioco è difficile da ricreare questo ok ce l'ho fatta adesso così perfetto ce l'ho fatto comunque voi ne sbloccherete sempre un po di più figure fino non so quante siano esattamente perché anche io non è che si gioco da molto però un gioco molto carino molto simpatico e dopo ci sono figure carine anche delle figure brutte dopo il tutto dipende dai gusti a me questo giochi non piace molto e ci può essere qualcuno a cui non piace ecco questo infatti un esempio che la figura sarebbe quasi perfetta non è una segna esatta e infatti ecco adesso ci sono riuscito pochi momenti prima della mia sconfitta se c'è così no ho perso però ho fatto un nuovo highscore di 950 punti come gioco molto carino e ripeto si chiama pixel twist ok mi si sono cancellate ne ho fatte molti di più a forse con la giornata ecco questa è una cosa brutta che prima ne avevo molti di più ma con l'aggiornamento mi si sono cancellate e adesso ne ho solo 8 di 400 e vabbè quindi adesso cerco di sbloccarne alcune e vabbè insomma questo qua è un gioco molto carino adesso compongo qualche altra figura tanto per farvi vedere qualche esempio comunque un gioco molto carino è un gioco molto carino a fare insolitudine non ce la faccio questo non riesco a vederlo forse è così ma ce l'ha fatta non ce l'ha fatta qui ho perso comunque come gioco molto carino arrivederci